Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Come sappiamo su molti modelli, o perlomeno più i vecchi modelli della Nissan Qashqai, i pulsanti degli alza vetri non sono illuminati, purtroppo si sprecavano a mettere un piccolo led per ogni pulsante. Comunque sulle nuove versioni poi l'hanno messi, ho voluto provare dei piccoli adesivi fluorescenti come questi, sono disponibili in tre colori diversi, in blu, arancione e in verde, quindi essendo fluorescenti dovrebbero immagazzinare un po' di luce durante il giorno e poi emetterla nella notte, o perlomeno nello scuro. Sappiamo tutti che non è così, saranno di pochissima durata, però avendo dei led ambiente posizionati proprio qui sotto, dovrebbero ricevere un po' di luce e vedersi bene, quindi considerando che poi tra l'altro costano pochissimo, ho voluto provarli. Ok ragazzi, andiamoli a mettere e poi vediamo durante la sera che effetto faranno. Dopo aver pulito molto bene i vari tastini, mettiamo questi adesivi, ecco qua uno, purtroppo fa un sacco di riflesso. ecco qui come viene. ok, posizioniamone un altro, ora mettiamo l'ultimo, ok, sembra che sia diritto. l'ideale sarebbe fargli un po' una leggera passata con il fono, magari dopo. Ecco qui, volendo si possono aggiungere anche queste striscette qui, però credo che poi il pulsante diventi un po' troppo pesante. Comunque questo è l'effetto che faranno. è un po' troppo pesante. ok, qui il lato destro. è un po' troppo pesante. ecco qui quest'altro. ecco qui, raga, qui dietro i sportelli posteriori. ora dobbiamo vedere questa sera che effetto faranno. qui, raga, l'effetto di notte. è un po' troppo pesante. ovviamente prendono più luce perché ho i led ambiente qua sotto la maniglia. ok ragazzi, per ora è tutto, grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo video. grazie a tutti. 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 grazie a tutti.